All'estero rappresentano una realtà consolidata, in Italia sono una novità. Supermercati e minimarket senza casse in cui tecnologia e intelligenza artificiale rendono la spesa più comoda e veloce. Ma come funzionano? Basta scaricare l'applicazione che genera un QR code e tramite il QR code poi si entra all'interno del supermercato. Al momento della registrazione si sceglie un metodo di pagamento. Come vi è venuta quest'idea? Viaggiando un po' per il mondo abbiamo visto questa tecnologia, abbiamo deciso di portare questo concept anche in Italia. Tutto è affidato alla tecnologia. All'interno del negozio ci sono 24 telecamere, 10 sensori di movimento e una bilancia per ogni scaffale. Quando il prodotto viene prelevato dello scaffale, i sensori rilevano il movimento e aggiungono l'articolo al carrello virtuale. Niente carrelli o cestini. La spesa può risultare poco pratica? No, perché in realtà è la spesa dell'ultimo minuto, quindi non si viene qua a fare la spesa, la spesona del mese, ma per acquistare proprio solo quello che serve. Sicuramente comodo il pagamento? Semplicemente si esce tramite il tornello e in giro di pochi secondi arriva sull'applicazione lo scontrino fiscale. Niente casse e scontrini cartacei. In che modo entra in gioco l'intelligenza artificiale? In due modi. Interprete il movimento del nostro corpo e analizza le nostre abitudini per suggerirci prodotti nuovi e alternativi. Come fa? Arrivano dei consigli attraverso l'app. Si rinuncia alla privacy in nome della comodità? Assolutamente no, nessun dato viene registrato e tutto viene trattato secondo la normativa vigente. Niente casse vuol dire meno posti di lavoro? Assolutamente no, abbiamo un team che si occupa del negozio di 15 persone.